Il mio programma è quello che porto avanti da oltre 40 anni, per risolvere i problemi di Venezia bisogna creare due comuni autonomi, bisogna ripristinare, Mestre a suo tempo era un comune autonomo, deve ritornare del comune autonomo e Venezia deve acquistare la sua autonomia comunale. Non sono comunali a Venezia se non è candidato Francesco Mario Delia, dai lontani anni 70 promotore di ben quattro sfortunati referendum per la separazione amministrativa tra Laguna e Terraferma. Quattro decenni dopo le sue idee non sono cambiate, la strada è in salita ma nel terzo referendum eravamo arrivati vicini alla vittoria, ricorda? Ho avuto tutti i partiti contro e con una guerra, una guerra di propaganda politica contro il referendum perché andava a spezzare l'organigrama dei vari partiti, andava a spezzare gli interessi dei partiti e non solo dei partiti, delle categorie, perché il nome Venezia piace a tutti, è un nome Venezia che crea surplus, quindi uno vuole essere albergatore di Venezia, anche quello che ha l'albergo a Mestre e quello che ha un'attività in terraferma. Nonostante queste difficoltà, dichiara l'avvocato veneziano, il quinto referendum attualmente fermo in regione va fatto assolutamente e in caso di sconfitta occorre trovare un'altra via per conseguire l'obiettivo. Una volta ottenuta l'autonomia comunale, Venezia potrà avere uno statuto speciale e tutta una legislazione particolare che può essere riconosciuta sia dal Parlamento, dall'Europa, sia dal mondo intero e quindi anche con una defiscalizzazione a vantaggio di tutte le categorie, solo di quelle che operano a Venezia e nelle isole della sua laguna.